Il manto a cui oggi a Bassano ha dimostrato di essere una delle squadre più interessanti di questo campionato fa veramente specie per chi non la conosce bene vederla lì nelle zone basse della classifica? All'inizio abbiamo avuto una situazione societaria devastante poi ci siamo ripresi bene sono state tante partite come questa dove la squadra ha giocato molto bene ha dominato vendita molto di più e a volte non è riuscito a fare neanche un punto come oggi magari contro Monza ha pareggiato ha propato tante partite dove noi siamo stati molto sfortunati. Sulla partita di oggi mister che dice? Penso che abbiamo giocato nettamente meglio che abbiamo fatto anche un buon calcio abbiamo creato tantissimo però il risultato dice 3 a 1 e complimenti a Bassano.